Sì, benvenuti in questo nuovo video. Oggi provo il gioco Sandballs, se non ho sbaglio. Vabbè, comunque, 3, 2, 1, iniziamo. Ecco qua, qua dobbiamo scavare la sabbia per far passare le palline del camion. Vediamo. Vai così, belle le palline. Ok, ora... Ehm, bello l'annuncio, wow. Ma lo vuoi fare così non lo voglio mai più vedere nella vita. In questo livello, ecco qua, collezioniamo tutte le palline, poi la chiave, e boom! Tutte le palline nel camion. Ma perché vi non ho scavare? No, sono arrivato in ritardo. Ok, passiamo al livello successivo, e voilà. Le stelle. Ok, ora... No, aspetta. Qua c'è qualcosa così bello. E ora, 3, 2, 1... Passate, pure voi, pure voi! Bene. Allora, qua il livello successivo è... E poi non ho la bomba! Ok. Sì. Ora scavo tutta, tutta la sabbia. Wow! La sabbia! E... Ora... Tutta di qua! E poi di qua, e poi di qua, e poi di qua, e poi... No, molte palline sono cadute via. Vabbè. Vabbè. Più il mondo del livello è complicato. Ok, vediamo. Il livello successivo. Ok, bene. Eh... Così, e poi così... Sì! Ok. E ora... E ora... Così, così... Voilà, voilà! Mamma mia, quante palline che abbiamo preso! Wow! Ma guarda qua che roba! È proprio perfetto, cioè... Ok, bene. Ora... Costruisci, vediamo. C'è un nuovo tasto. Cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Allora, il tempesto ha ingiato tutti gli edifici dell'isola. Aiutaci a ricostruirli. Va bene. Questo non me lo aspettavo. Pensavo che aveva bisogno di scoprire palline. E basta. Ok. Ora costruiamo qua. Congratulazioni! Vediamo cosa sta... Ok, venti monete e due fuochi. Cos'è? Chiedi? Bene, continuiamo a ricostruire l'isola. Gioca. Ok. La sabbia. Andiamo. Ah, ho capito. Questa pallina, forse? Sono un carico di merce che servono per costruire gli edifici e le cose. Io prima pensavo che non aveva senso sto gioco. Ecco qua. Guarda qua che bella strada. Poi qua facciamo così. Bene. E poi così. Voilà. Perfetto. Poi... Il miglior premio vogliamo? Prima. No, volevo il miglior premio. No, perché... No, 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 non voglio pagare. Mi dì un nuovo tasto a palle. Vediamo. Sblocca random. Vediamo. Sblocca... Randomino. La palla hamburger. Mi dì, livello bonus. I soldi ci sono. Le monete. Al posto delle palline normali. Allora devo prendermi il più possibile. Quindi scaviamo dappertutto. Scava, scava. Scava. Scaviamo dappertutto. Sblocca, soprattutto tutto. Non voglio vedere neanche una moneta fuori posto. Tutte nel camion. Eh sì, sì, sì. Tutte nel camion. Ok, prepariamo qua. Prepariamo. Ok, prepariamo tutto. No, perché ho scavato la sabbia di fianco? Vabbè. Cadi. No, peccato. Quante palline ho spercato. Non dovevo scavare la sabbia là di fianco. Ne avrei preso un botto. Vabbè. Tredici monete. Vabbè. Vabbè, comunque. Ok, ora. Hamburger. Andiamo così. Voilà. E ora così. No, aspetta anche voi dovete andare. No, perché non sono state prese molte palline? Non agio. Bene. Così. Così, 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 così. Voilà. No. No, non voglio fare lo stesso errore di prima. Vabbè, questo ormai lo faccio cadere giù. Già che si è ucciso, eh. Voilà. Una stella. No, l'annuncio è ancora... Ok, no, grazie. Siamo passati al prossimo livello. Ok, quindi, vediamo così. Poi... Così. E così. Poi così. E poi... E tutti qua. Bene. Ok, così. Poi così. E poi così. Yuppi, yuppi, yuppi. Yuppi, yuppi, yuppi. Mamma mia che camion piano stavolta. Proprio un bel carico pieno pieno. L'automobile. Eh no, ma non lo posso prendere. Ok. Ottieni ricompensa. Diamo il benvenuto nella stagione Space Adventurers. Riscatto e il regalo di benvenuto. Ottieni. Ecco, tocca per aprire. Vediamo. Ok, 300 euro, wow. C'è 300 soldi poi. Chissà, sono euro o... No, lo so. Il pass sabbia fornisce l'accesso e ricompense straordinarie. Puoi acquistare il passo e sabbia in qualsiasi momento. Vediamo se faccio attiva. Ok, gioca. Bene. Mi dio il verde. Cos'è c'è? Sono passato nel tubo. Ora, una parte così e l'altra così. No. Peccato. Dai, mannaggia. Ci deve essere qualche pallina che becca quelle là. Questa pallina qua. Quella è la bianca. Ok, così, 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 così. Un po' così, così, così. Un po' così, 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 dai. Mi dio, di là c'è un tubo. Vai. E le altre... E le altre palline? Vabbè, faccio passare anche loro qua. Ah no, non ci riesco. Vabbè, allora dovrò fare così con le altre. Si devono incontrare. Ok. Sono riuscito a riunirle. Bene, fanno tutto il loro percorso qua. Per poi... Sbucare del camioncino. Voilà. Passate anche voi però, cioè... Tutti devono passare. Com'è che voi non passate? Ecco qua, voilà. Siamo... Proprio nel camion preciso. Ok. Vabbè, direi che per oggi ci possiamo fermare qui. È da JVDGamer, da Justin... Sì, ciao, sono io. Ciao a tutti!